Buongiorno ragazzi, oggi ci troviamo in Playa da Rinaga per presentarvi un appartamento in vendita. Iniziamo subito il nostro tour virtuale. Iniziamo il nostro video dalla zona giorno, quindi salone con angolo cottura. Ci sono queste belle finestre, qui siamo proprio in centro a Playa da Rinaga. E ora non so se potete vedere, siamo vicinissimi al mare, sono pochi metri. E' posizionato perfettamente l'appartamento. Facciamo un giretto in questa bella casa, tra l'altro il prezzo di vendita è anche molto interessante. Prima porta a sinistra, la camera da letto. Questa è la più piccolina, nel fondo ci sarà la camera principale. Che divide le due camere, il bagno. Ragazzi qui troviamo il bidet, meno male. E una bella vasca, si può mettere anche con una bella doccia super comoda. Chiaramente è finestrato il bagno. E qui la camera da letto principale. Con questa finestra che dà a un patio interno dell'edificio. L'edificio è piccolino. Sono pochi appartamenti. E' super tranquillo. E troviamo anche il posto auto. Questa, come tante altre, sono le proposte che possiamo offrirvi sul mercato dell'isola di Gran Canaria. Se volete maggiore informazione e siete curiosi di scoprire insieme a noi Playa de Arinaga, scrivetemi alla mia email, che come al solito vi lascio qui sotto in descrizione. iscrivetevi al canale, vi aspetto al prossimo video. Se vi è piaciuto il video, come al solito, un bel like!